Ho iniziato a registrare Dove hai scritto? Tutto è andato? Pronto? Pronto? Dai! Ma sì? Vedo ciò che ci sono tutti Ma per me di 30 come si fa? Cazzo sì, sono uno spammone Eh sì eh Buon dai Buonanotte Buonanotte Non mi vergogna Però Sì Ma salve, salve, salve Ma siamo dei vecchi Sì E noi ne abbiamo letto proprio lo stile, cazzo E noi facciamo l'amore Con un sapore Le chilo Sì Come un sapore, come un cargatto Sì, grazie Ma come cazzo? Ma porca, ma sono fatti di metto al cemento questi Che cazzo è il mio cemento? Ma oh, ma stai inutente là che muoio io Vabbè, però c'è Eh, spero, perché qui è complicato Ma come ci stanno i pene? Come cazzo messi? Ma porca, però te Non c'è l'amore che non c'è Speriamo Dai, dai Beh, no Buonanotte Buonanotte Mi hai flashato però Ebbene Nascondetevi E poi Poi dormiamo Ci condiranno O l'enna caso O l'enna caso Aspetta che parta con E vabbè tanto registrazione Poi taglio Però scusa, dopo Allora, aspetta Facciamo una sieneggiatura Sieneggiatura Allora, facciamo In realtà posso mettermi il chiodi Io Eh, in realtà si Perché il telecomando Non è che Andiamo a braccio Se forno Però non deve rimaltarmi il comodino Vabbè Invece si trova il fatto Questo finisce nel backstage Non voglio rimaltarmi il comodino, che ci provo. No, dicevo, insomma la sceneggiatura, tende che si muovono, TV che si accende, e quando si accende la TV mi sveglio tipo, mi sveglio, mi alzo, la vado a spegnere, e mi rimetto a dormire, no? Pena mi rimetto giù, si riaccende, la guardo, e mi rimetto giù, la guardo, mi metto giù e si spegne, no, perché la seconda volta la guardo, approccio i coglioni girati e non ho voglia di andarla a spegnere, quindi mi rimetto giù, e possiamo commentare la roba interessante che c'è, no, mi metto giù e dormo, però dopo volevo fare tipo una roba, che mi arrivo al polto e vi ha visto, no? E mi sveglio, mi riuscivo a me, c***o, che c***o è stato, tipo, che c***o è stato, però non mi potete ridere, è una cosa seria, è ovvio, molto seria, molto seria, non ho cosa sottogamba, Ma ce l'hai lì? Ok, non mi alzi, bella volevano questa tele, no? Eh sia, quando mi alzo, però la sveglia la tele, si. Ok, siete pronti, vai vai. Ehi, faccia, che spesso? Scusa, ma porca puttana, ci sto io dietro a queste c***o di tende bianche, staccia anche tu? Ok. Così, no, no, eh. Tu sono un c***o, ho un c***o, ho un c***o, ho un c***o, ho un c***o. Eh, cosi, è il c***o. Se l'ho in c***o, lo faceva? Eh sì, è così un c***o. Stati dormendo, vabbè? Però mi hanno finito a dormire. Ok, pronti. Se poi magari, se anche si accende la tv, magari... Prendo. adesso dobbiamo rifarla ma funziona non funziona ma se funziona diceva le stronzate no ha funzionato ma è stricchia ma c'era un po' sta barra di televisione no la dietro a tenda ah sii non è un uomo ma se va che mi sposto dal letto no e forza e big show facciamo si ma finchè c'è il culo di non davanti beh ma è qua ma prova tu da lì che sono in girata aspetta guarda che tu ingegneri non si vuole usare telecomando ehi 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 passandogli il telecomando infatti ma proprio non si accendeva perchè ci voleva mezz'ora non è che appena è uscito si è sceso no perchè si accende il led prima poi ci mette due anni che cazzo di roba era ci provi no? vedi te io c'è il led vedete si accende il led però adesso aspetta ma che merda di tv è questa qualcosa è una merda di tv aspetta 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 spegnila dall'interruttore di fianco però no sotto questa no? che cazzo è ok si spegne no si sticcare la corrente ok si accende da qua siete pronti? si aspetta qua sto poltergeist hai acceso la luce? hai acceso la tv? non so mi sei tranquillo è spento mi piace molto ok pronti? è finito? non lo so è finito e la sfidaggiatura si fermava qui sveglia ma è creativo questo luce che merda adesso però voglio una scena col poltergeist è per questo ti unnosso le tende perchè così facevi no però quella lì si può fare staccata quella del poltergeist ma qual è quella del poltergeist? tipo che arriva qualcosa qui e mi tocca la mano da sotto però devo fare due di scena due finale alternative una che mi cambia bestia e una che mi piace ahahahah adesso è venuto vai sotto esatto e faccio tutto per la macchina ma che schifo dai dai ma cosi ma mi sto girato di culo solo metto quel carro eh si e dai vado giustamente ma stai io registrando? si si è unica siamo 8 minuti eh dai 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 bellissima bellissima eh 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 però che fai wow cazzo